Ciao ragazzi, stiamo andando avanti in questo momento qui per vedere cosa succede. Io credo che il sindaco di Anzachena è scappato, non io, perché io sono a casa mia, io a Montecaro non scappo vivo, mio figlio va a scuola qui, abbiamo 400 dipendenti a Monaco, con cui non scappo a Monaco. Invece ieri sera abbiamo le prove fonografiche, abbiamo le prove visive, che poi manderemo video, che ballavano tutti sui tavoli, non fa neanche rispettare il decreto del governo che non si può ballare, invece non fa neanche rispettare la sua stupida idea di restringere ancora questo, aspettato che il billionaire chiudesse e via, festa come mai, questo, questo, fessi no, è una vergogna. Adesso vedete il video, sappiate che il video è registrato, fotografato, è di ieri e l'altro ieri. Ok, per un po' vedete il video. Ciao ragazzi!